SONO TRE CRIMINALI DUE LADRI UN GALILEO DUE GALILEDRI E UN CERTO GESU UN SOBOS DEPO IL SOMO SACERDOTE CAIFAR ANNUNCIAVA A TUTTE LE GENTI UN REGNO DICEVA DI VOLER RIDARE LA VISTA A I CESSI PAROLE PERICOLOSE RUFO AH! LO STAMPO PURTANDO AL GOLGOTA LO UCCIDERANNO E VIVA PERCA DIO Ma dove sono andati i suoi discepoli? Sono scomparsi tutti, sono scappati, lo hanno lasciato solo Non è quello che hai creato Ma dove sono andati? Ma che cosa? Oh!